Roma, via degli anemoni, zona Centocelle, agenzia per la vita indipendente. La struttura ma soprattutto la storia di Dino Barlam. Tornando alla sua associazione, chi volesse capire qual è l'iter da intraprendere per ottenere questi finanziamenti? Si può rivolgere tranquillamente a voi? Sì, noi siamo qui disponibili dal lunedì al venerdì, dalla mattina alle 9, alla sera alle 6, ad informare le persone su quali opportunità esistono principalmente sul territorio romano, ma comunque diamo delle indicazioni a tutti e in ogni caso corgo l'occasione per dire che il finanziamento per quella che viene chiamata comunemente presso i municipi l'assistenza indiretta, così viene chiamata, si presenta la richiesta presso il municipio di residenza. Ovviamente vengono richiesti dei documenti, vengono fatte delle visite domiciliari per vedere, per conoscere la persona e dopo un certo periodo di tempo, perché purtroppo non è così scontato che poi uno lo ottenga in tempi brevi, ma qualora ci sono situazioni particolarmente gravi, insomma le istituzioni cercano di adoperarsi al più presto, la persona può avere un finanziamento economico che deve giustificare, non è che ha un sussidio, ha un finanziamento per cui la persona dovrà assumere l'assistente personale e presentare periodicamente all'amministrazione e a posta paga i contributi che versa per la persona. Noi da questo punto di vista aiutiamo tutti in questo percorso proprio per non appesantire loro la gestione burocraria e abbiamo ormai acquisito una certa competenza anche sul tema su come funziona un po' il tutto e ci siamo specializzati esclusivamente su questo e su come funziona la gestione di un rapporto di lavoro con un assistente personale e aiutiamo la persona anche a superare le criticità relazionali in un servizio di assistenza tra operatore e persona con disabilità, le criticità, le discussioni, le cose che accadono, aiutiamo tutti, entrambi, sia il lavoratore che la persona per evitare che si lasciano perché poi si creano attriti poi ma soprattutto che cessino questi rapporti perché ogni rapporto che cessa significa una fatica per entrambe le parti, un lavoratore che perde lavoro, una persona con disabilità che deve ricominciare a spiegare da capo tutte le sue abitudini, tutte le sue necessità ed è un percorso faticoso pensate che ci vogliono anche un mese affinché un operatore abbia capito poi efficacemente quali sono i bisogni della persona per cui noi cerchiamo diciamo di renderci disponibili ad aiutare rispetto a questo alle persone, coloro che volessero possono andare al proprio comune a chiedere diciamo e insistere soprattutto perché poi ci sono un po' di resistenze da parte dei territori e formalizzate, scrivetelo, non dovete solo accettare la risposta negativa da parte dell'amministrazione, voi comunque la presentate una domanda anche su un foglio bianco se non ve lo danno, in cui dite io voglio questo finanziamento per l'assistenza indiretta, per la vita indipendente. Per quanto riguarda alcuni comuni recalcitranti a questo tipo di rapporto di assistenza indiretta come viene chiamato e quindi questa sorta proprio di accesso alla vita indipendente, come intervenite? Beh questo poi dipende dalle circostanze, dalle situazioni perché poi bisogna avere cura e attenzione di non essere dannosi, voglio dire per cui dipende, noi prima di tutto diciamo come ho detto poco fa di formalizzare la richiesta in modo tale che c'è una richiesta, non c'è una chiacchierata, uno scrive una lettera in cui dice io ho bisogno in base alla legge 162 del 98 di un finanziamento per assumere un mio assistente personale, ho una disabilità grave certificata ai sensi dell'articolo 3,3 della legge 104 del 92 e a quel punto si è formalizzata una richiesta. Se a quella richiesta, in base a quella che è la normativa sul procedimento amministrativo dovrà corrispondere una risposta motivata, non è che va una risposta, spesso gli enti locali non rispondono però lì già si innesca un meccanismo su cui noi possiamo intervenire per cui fare pressione, anche noi chiamare, anche noi scrivere all'amministrazione territoriale cercando di far vedere che la persona non è neanche sola, insomma ha delle competenze dietro che cercano di aiutarla. È ovvio che poi se la situazione è seria, grave e ci sono delle resistenze noi diciamo pure alla persona che forse è il caso di avviare e fare ricorso all'autorità giudiziaria se c'è una resistenza irragionevole voglio dire. È ovvio questa è l'ultima ipotesi perché poi insomma la persona non può essere alle prese con la giustizia per avere un diritto però in quei casi dove la resistenza è immotivata, irragionevole e grave per cui crea danno alla persona a quel punto dopo aver avvisato l'ente locale suggeriamo in ultima analisi questo tipo di soluzione. Bene, io direi che è molto importante quello che lei ha palesato soprattutto a volte anche sulle interpretazioni volutamente o meno volontariamente errate da parte degli istituti preposti assistenti sociali di alcuni comuni d'Italia della legge 162 del 1998. Dino Barlam, vogliamo ricordare l'indirizzo almeno qui vostro a Roma perché voi avete molte diramazioni in tutta Italia, non proprio voi, ci sono altre associazioni ce n'è una quasi in sintonia di nomenclatura con voi che si trova in Toscana ora state operando anche per alcune province della Campania come Avellino, Caserta, Benevento e Napoli voi vi trovate a Roma, diamo tutti quanti i dati perché si volesse mettere in contatto con voi. Allora l'Agenzia per la vita indipendente è una ONLUS che è a Roma in via degli Anemoni numero 19 il suo telefono è 0688-544-572 e noi siamo qui dal lunedì al venerdì tutti i giorni a vostra disposizione sperando che neanche ne avreste bisogno di noi perché la speranza è che le cose si risolvano senza aver bisogno di interventi però ecco almeno per darvi dei consigli speriamo di potervi essere utili e sappiate soprattutto che non siete soli una bella storia quella di Dino Barlam che ha trasformato la sua vita e la messa a disposizione di chi ha meno risorse sia devo dire strutturali ma anche voglio dire come dire di forza caratteriale per abbattere quello che è il confine nel rapporto che c'è tra il cittadino il cittadino disabile in questo caso e la pubblica amministrazione che è sempre più faticosa qui in Italia grazie a Dino Barlam grazie a voi grazie a tutti